E' più che soddisfatta per come l'Unione dei Comuni Terre dell'Ufita sta procedendo dopo che il sindaco di Grotta Minarda ha consegnato la presidenza al primo cittadino di Villa Maina, Stefania di Sicilia, per la quale è importante portare avanti, nel segno della continuità, l'esperienza Cobbino che ha tenuto conto delle esigenze territoriali. Resta ferma intenzione quella di apportare maggiori contributi al territorio attuando una politica che stia al passo con i progetti da realizzare, come l'alta capacità e la stazione Irpinia che guardano al futuro di una parte del territorio rimasta per troppo tempo isolata. Il lavoro fatto da chi mi ha preceduto è stato tanto e di valore e va ulteriormente proseguito. Bisogna dare una spinta a questo tipo di ente perché è un ente sovracomunale che dovrebbe avere una visione più globale della nostra comunità e soprattutto creare le condizioni di una governanza, anche di questi processi di sviluppo che ci stanno in qualche modo investendo positivamente. Perché la stazione di alta capacità, anche la piattaforma logistica e anche queste misure che sono connesse a uno sviluppo economico del territorio necessitano di una governanza e l'Unione dei Comuni può essere proprio il luogo migliore per creare le condizioni e favorire il più possibile gli investimenti sul nostro territorio.